Carlo Gucci, tecnico del circolo pattinatori Grosseto, è molto difficile venire in sala stampa a commentare un risultato così roboante, probabilmente maturato nel corso di un primo tempo dove il Grosseto, posso dire, si è visto molto poco. Sì, stasera c'è stata una squadra sola, di Follonica, noi abbiamo avuto delle difficoltà già dall'inizio, è stato difficile entrare in partita, a sprazzi, provavamo a fare il nostro gioco ma non ci siamo praticamente mai riusciti. Ci rialzeremo, le cadute sono fatte per rialzarsi, speriamo. Diciamo che la Coppa Italia è stata una fase anche di prova per quanto riguarda la tua squadra, gennaio sarà il mese in cui inizierà il campionato, quindi probabilmente da qui a gennaio forse ci saranno altri match, test importanti per testare un po' il gruppo che sembrava dopo Castiglione della Pescaia fosse decisamente in crescita. Sì, noi viviamo giorno per giorno, abbiamo iniziato questo percorso, vediamo anche in questa pausa, parleremo la società, parleremo la squadra e vediamo come andare avanti. Prenderemo delle decisioni, ci impegneremo tutti per andare avanti e fare bene, vediamo, vediamo. Da qui a gennaio abbiamo per fortuna questo paio di mesi per vedere il da farsi, decideremo insieme cosa faremo.